Come sta vivendo questa situazione? Non so se lei è tra chi lavora a casa oppure è costretto comunque lavorare fuori casa e quindi come si sta vivendo questa situazione di queste restrizioni stando a casa? Ma direi che la sto vivendo credo con il buonsenso che viene suggerito dalle circostanze e conciliando da una parte alcune esigenze lavorative e di vita che impongono di uscire per ragioni di stretta necessità ma anche prolungando moltissimo il tempo in cui sto a casa e facendo di tutto per restarci il più possibile questo è un po il criterio generale che sto seguendo e sempre in base appunto alla sua esperienza personale o comunque quello che lei può magari vedere e sentire come questa situazione come sta modificando il modo di relazionarsi delle persone e di vivere perché ovviamente c'è chi ha la fortuna di stare a casa in famiglia comunque in compagnia e chi invece sta da solo quindi come diciamo anche il ruolo della famiglia è importante? Sicuramente è un ruolo importante e credo che da una parte questa esperienza ci inviti a ritenere che valori e situazioni importanti nella vita che prima forse si avevano per scontati diciamo la libertà di muoversi la libertà di di agire consentiva un po di di non considerare veramente significative forse anche alcune relazioni di cui adesso si avverte molto la mancanza la possibilità di non potere andare in pizzeria con gli amici o in qualche per un aperitivo eccetera può essere per tanta gente un'occasione per recuperare anche la consapevolezza dell'importanza di questi di questi valori così anche a livello familiare penso alle persone che sono separate ci sono casi di persone che sono anche all'estero che non riescono a raggiungere l'italia quindi i fratelli o i genitori sono preoccupati per il loro rimpatrio che non non avviene in questi in questi giorni diciamo che questa situazione paradossalmente fa recuperare da un certo punto di vista il senso del valore di queste relazioni un'ultima battuta lei a conoscenza di iniziative di solidarietà magari da parte dell'associazionismo o comunque diciamo delle anche a alcune volte del ruolo dei dei singoli dei privati per aiutare chi è più in difficoltà penso soprattutto agli anziani o comunque a chi non non ha tanta possibilità di affrontare nel migliore dei modi questa situazione sicuramente ci sono alcune organizzazioni di volontariato e anche alcune parrocchie che si stanno dando da fare in particolare in questo periodo penso per quanto riguarda l'ambito più civile alla pubblica assistenza ma per quanto riguarda la dimensione dell'associazionismo religioso l'unità al si ad una parrocchia che è quella dei santi simoni giudo giuda al centro di aiuto alla vita che è una realtà molto importante del territorio che appunto anche in questa fase sia pure con tutte le cautele continua a sostenere le donne in difficoltà che hanno scelto di non abortire e che sono appunto in qualche modo tutelate dai volontari dello stesso centro e naturalmente la caritas continua a fare la sua parte con con abnegazione quindi esiste una una rete solida di prossimità alle persone che sicuramente è importante la cui dedizione è un segno di incoraggiamento un po per tutti e poi esiste ulteriormente un servizio della protezione civile soprattutto per i comuni della bassa romagna che sono lugo bagnacavallo eccetera dove si assicura un contatto telefonico con le persone più anziane quindi la rete di servizi fornita del volontariato e dalla protezione civile mi sembra piuttosto solida